Ben trovate e ben trovati, oggi parleremo dell'inquinamento dell'aria e sarà una lezione veramente breve in cui leggeremo alcuni paragrafi e li spiegheremo, sarà tutto molto molto facile. La lezione di oggi si divide in tre paragrafetti, uno è l'aria che respiriamo e quindi abbiamo un inquadramento di ciò che è l'aria e di come è cambiata nei secoli un secondo paragrafetto parla dei gas inquinanti, quindi quali sono i gas che inquinano più comunemente l'aria e infine parleremo delle polveri sottili. Che cosa sono le polveri sottili? Lo vedremo successivamente, va bene? E sono particolarmente presenti tra l'altro nelle nostre città e per le strade, quindi purtroppo li respiriamo, va bene? Ma andiamo per ordine. Bene, andiamo al primo paragrafetto. Intanto ricordiamo che stiamo parlando dell'inquinamento dell'aria, quindi di ciò che respiriamo. Allora, l'aria che respiriamo, andiamo a leggere questo paragrafetto e lo commentiamo. L'aria che respiriamo è una risorsa primaria, indispensabile alla vita. La sua composizione chimica è cambiata molto nella storia della Terra. Proprio grazie agli esseri viventi ha raggiunto l'attuale composizione, attraverso un cambiamento lentissimo e graduale. Quindi, intanto spieghiamo questo pezzo. Che cos'è l'aria che respiriamo? Intanto sappiamo che è una risorsa primaria. Perché è una risorsa primaria? Perché se non ci fosse l'aria, chiaramente non ci saremmo nemmeno noi. Noi, come esseri umani, ma anche come animali, come piante, tutti abbiamo bisogno di respirare. La sua composizione chimica è cambiata molto nella storia. Che vuol dire? L'aria, noi abbiamo già studiato precedentemente, che è composta da tante sostanze, da tanti gas in particolare. E vedremo che la sua composizione dalla preistoria ad oggi è cambiata tantissimo. Pensate che all'inizio la Terra aveva un'aria che era irrespirabile. Poi, grazie alle piante, è diventata un'aria respirabile e quindi utile alla vita umana. E oggi, invece, abbiamo un'aria che purtroppo, anche grazie all'azione del uomo, è inquinata. Andiamo avanti. Oggi, invece, a causa dell'intensità delle attività umane, questa composizione sta cambiando molto velocemente, con effetti imprevedibili sul clima. Nelle aree urbane e industriali, inoltre, la composizione dell'aria può essere fortemente alterata per la concentrazione di scarichi di gas e polveri. Il cosiddetto inquinamento atmosferico. Attenzione, vedete che è scritto in eretto? È importante conoscere questa parolina. Inquinamento atmosferico. Le principali fonti di inquinamento sono gli scarichi industriali e civili e il traffico automobilistico. Qua c'è anche un'immagine molto chiara di quello di cui stiamo parlando. Quindi, cosa leggiamo qua? Che oggi, proprio a causa delle attività umane, quindi, la composizione sta cambiando molto più velocemente di come cambiasse in passato, ok? Con effetti imprevedibili sul clima. Cioè, noi alcuni effetti piano piano li stiamo vedendo, non solo perché la qualità dell'aria peggiora, ma perché sta cambiando. Vi ricordate che abbiamo parlato anche di effetto serra? Abbiamo parlato di buco nell'ozono? Nelle lezioni precedenti abbiamo parlato di una serie di concetti che oggi dovrebbero esserci già noti. Quindi, gli effetti sono imprevedibili sul clima, anche se una parte in realtà già li conosciamo. Nelle aree urbane e industriali. Le aree urbane cosa sono, ragazzi? Sono le città, i paesi, va bene? Anche le nostre piccole cittadine in realtà sono aree urbane. e industriali. Le aree industriali sono quelle aree dedicate alle industrie. In tanti paesi, in tante città, ci sono delle aree dedicate proprio alle zone industriali. Quindi, sono delle zone in cui sono concentrate le industrie. Chiaramente le industrie, oltre a consumare tanta energia elettrica, inquinano anche parecchio, ok? Perché hanno dei fumi di scarto, quindi dei gas di rifiuto, quindi che vengono emanati nell'aria, che contribuiscono a inquinare. E cosa creano questi scarichi di gas e polveri? Il cosiddetto inquinamento atmosferico. Quindi, contribuiscono ad inquinare l'aria, l'atmosfera, ok? Quando leggete inquinamento atmosferico, vuol dire inquinamento dell'aria. Le principali fonti di inquinamento sono scarichi industriali, e lo vediamo qua, i cosiddetti camini delle industrie, no? E civili, e il traffico automobilistico, quindi i gas che escono dalle nostre auto, ok? Andiamo avanti. Ogni giorno, dalle industrie, metto anche l'immagine così è più chiara, ecco qua. Ogni giorno, dalle industrie, dai camini e dalle caldaie delle nostre abitazioni, specialmente in inverno, e dai motori delle automobili, fuoriescono enormi quantità di polveri e gas. Questi inquinanti, quindi questi gas inquinanti, quando entrano nel nostro organismo, attraverso la respirazione, lo espongono a sostanze molto nocive, o anche solo irritanti. In alcuni casi, ciò può avvenire anche solo per contatto cutaneo, che vuol dire quindi qua, che come dicevamo prima, appunto, industrie e i gas delle automobili, anche le nostre caldaie, qua fa vedere se riesco, ecco qua, anche le nostre caldaie, le nostre stufe, creano dei gas inquinanti, che noi, piano piano, tutti i giorni andiamo respirando, quindi attraverso la respirazione, qua dice il libro, il nostro corpo, come dire, assimila questi gas e quindi il nostro corpo è esposto a sostanze nocive. Che vuol dire nocive? Cattive, ok? Sostanze che sono nocive al nostro corpo, quindi sostanze che fanno male al nostro corpo, o anche solamente irritanti, che vuol dire che queste sostanze magari non le respiriamo, oppure le respiriamo e possono avere degli effetti anche sulla pelle, ok? Possono provocarci prurito in alcuni casi. E poi, qua il libro dice che in alcuni casi questo può succedere anche per contatto cutaneo. Che vuol dire contatto cutaneo? Contatto della pelle, ok? Della cute, la cute è la nostra pelle. Quindi se parliamo di contatto cutaneo stiamo parlando anche di semplice contatto attraverso le mani, attraverso la pelle che magari è nuda o è esposta magari in estate e quindi può venire a contatto con delle sostanze. Perché qua, ragazzi, dice che questi gas sono presenti soprattutto in inverno? Chiaramente le auto e le industrie, quelle le abbiamo tutto l'anno. Diciamo, in inverno chiaramente, purtroppo, dobbiamo utilizzare molto di più stufe, caldaie e quindi ecco che inquiniamo molto di più, almeno a livello di gas che produciamo nell'atmosfera, va bene? Se parlassimo di elettricità il discorso è un po' diverso, ma adesso questo non ci interessa. Quindi vedete che il primo paragrafetto è chiarissimo, ci spiega, bene o male, che l'aria che respiriamo si è modificata nei secoli e in qualche modo negli ultimi decenni, negli ultimi secoli, diciamo, si è modificata molto la sua composizione, perché introduciamo nell'aria, purtroppo, molti inquinanti, molti gas inquinanti. Andiamo al secondo paragrafetto, che appunto ci parla dei gas inquinanti. Attenzione, qua parleremo di alcuni gas, dicendo anche la loro formula chimica, ma non vi preoccupate, l'importante è che voi conosciate il nome, va bene? Intanto lo leggiamo. I gas inquinanti più comuni derivano da processi di combustione. Che cos'è la combustione? Una reazione con l'ossigeno dell'aria. Quindi ogni volta che bruciamo qualcosa nel motore di un'automobile, nel forno di una fabbrica o nel bruciatore di una caldaia per il riscaldamento domestico, scarichiamo nell'atmosfera una notevole quantità di questi gas. Quindi cosa vuol dire questo pezzettino? I gas inquinanti più comuni derivano dagli processi di combustione. Che cos'è la combustione? Vuol dire bruciare, bruciare in presenza di ossigeno, va bene? Quando noi ad esempio accendiamo anche una candela, se non c'è l'ossigeno non avviene la combustione. Quindi i principali processi di inquinamento sono presenti anche perché esiste una combustione, va bene? Impariamo anche questa parolina. Quindi questa reazione con l'ossigeno dell'aria. E quindi ogni volta che bruciamo qualcosa noi stiamo inquinando, va bene? Uno di questi gas che si produce è il diossido di carbonio. La formula è CO2. Infatti si chiama diossido perché vuol dire che ci sono due molecole di ossigeno, diossido di carbonio, va bene? E una di carbonio chiaramente. Quindi una molecola di carbonio e due di ossigeno, CO2. Cioè l'anidride carbonica, noi la conosciamo tutti molto più comunamente come anidride carbonica. Ne sentiamo parlare in continuazione, no? L'anidride carbonica che non è di per sé un gas nocivo. Quindi di suo l'anidride carbonica nelle giuste quantità non è che è un gas nocivo. Anzi, devo dire che alle piante serve anche per la fotosintesi clorofiliana, quindi per produrre poi ossigeno. Ma ha un effetto importante sul clima essendo uno dei gas responsabili dell'effetto Serra. Ecco qua, abbiamo ritrovato l'effetto Serra. Vi ricordate che nelle lezioni precedenti avevamo parlato del fatto che tra i gas che contribuiscono a creare l'effetto Serra, quindi a creare questa sorta di K che non permette più la fuoriuscita del calore dal pianeta Terra, c'è anche l'anidride carbonica che qua il libro riporta anche con la formula, quindi di ossido di carbonio o CO2, più comunemente detta anidride carbonica. Quindi, allora, se noi dobbiamo essere interrogati, ok? Se noi dobbiamo spiegare a qualcuno quali sono i gas che possono essere nocivi e che produciamo noi. Uno è l'anidride carbonica, ovvero, detto con una parolina più, come dire, appropriata, più corretta, di ossido di carbonio o CO2, va bene? Che di per sé non è un gas nocivo, quindi non è un gas cattivo, ma che contribuisce all'effetto Serra che noi abbiamo già studiato. Detto questo, andiamo nell'altra paginetta. Un altro gas pericoloso è il monossido di carbonio. Allora, se quello precedente si chiamava diossido di carbonio, quindi due molecole di ossigeno e una di carbonio, invece il monossido, quindi monoossido, quindi una sola molecola di ossigeno, di carbonio, quindi è una molecola di carbonio. In questo caso vedete che la formula non è più CO2, ma è CO, va bene? Allora, li leggiamo da capo. Il monossido di carbonio, CO, è invece un gas in odore e in colore, che vuol dire che non ha odore e non ha un colore, va bene? Che è in grado di legarsi all'emoglobina contenuta nei globuli rossi. Niente paura, ragazzi, ora spieghiamo che vuol dire. Continuiamo a leggere intanto. In questo modo impedisce al sangue di trasportare l'ossigeno agli organi e ai tessuti del nostro corpo. L'avvelenamento da monossido colpisce per primo il cervello, conducendo a uno stato di incoscienza seguito dall'asfissia e dalla morte. Il monossido può essere prodotto quando una combustione si verifica in un ambiente in cui vi è poco ossigeno, per esempio nel motore delle auto. Il monossido è però più pericoloso se viene prodotto in un ambiente, scusate, in ambienti chiusi come le nostre case, dove può raggiungere concentrazioni elevate senza che ce ne accorgiamo. Ora spieghiamo che vuol dire, va bene ragazzi? Questo può accadere, per esempio, in caldaio cucina a gas difettose, riconoscibili per il colore della loro fiamma, che invece di essere azzurro è arancione giallo. Velenosissimi per l'organismo sono anche l'ossido di azoto e l'ossido di zolfo, ma questo va bene ragazzi, anche se non lo ricordate non importa. A noi interessa che ricordiamo il diossido di carbonio, che sarebbe l'anidride carbonica di cui abbiamo parlato prima, e il monossido, vedete che è scritto in lettere, monossido di carbonio, quindi una sola molecola di carbonio e una di ossigeno. Questo monossido di carbonio, quindi questo gas, che è un gas che qua dice inodore, cioè che non ha odore, e incolore, cioè che non ha un colore. Quindi noi, quando questo gas è presente nell'aria, in realtà non ce ne accorgiamo, ecco perché è anche pericolosissimo, va bene? Perché in realtà questo gas è un gas, come dire, diremmo furbo, se un gas potesse avere l'intelligenza, chiaramente non è così. Diciamo, è un gas che purtroppo ci coglie di sorpresa, perché noi non ce ne accorgiamo, o ce ne accorgiamo quando è già troppo tardi. E questo perché? Perché il monossido di carbonio si lega all'emoglobina. L'emoglobina è una sostanza contenuta dentro le vene, ecco qua vedete questa immagine, questa è come se fosse una vena nostra, e dentro ci sono i globuli rossi. All'interno dei globuli rossi è contenuta l'emoglobina, che è quella sostanza che trasporta l'ossigeno dai polmoni a tutto il corpo, va bene? Qualcosa succede? Che il monossido di carbonio si lega all'emoglobina, e questo impedisce al sangue di trasportare abbastanza ossigeno in tutti gli organi del corpo, va bene? Quindi avviene un vero e proprio avvelenamento. L'avvelenamento cosa succede? Questo ossigeno che viene a mancare al corpo, perché l'emoglobina non riesce più a catturare l'ossigeno, ma cattura il monossido di carbonio, o meglio viene catturato dal monossido di carbonio. Cosa succede? Succede che il nostro cervello, piano piano, è come se venisse avvelenato, senza che noi ce l'accorgiamo. E quindi piano piano noi perdiamo i sensi, ci addormentiamo, e quindi non ci accorgiamo che stiamo per essere avvelenati, ok? Ecco allora perché è così pericoloso il monossido di carbonio. Perché venendo a mancare l'ossigeno nel nostro corpo, noi piano piano ci addormentiamo e rischiamo, purtroppo in tanti casi avviene anche la morte, perché ci addormentiamo e veniamo avvelenati, fino a quando nel nostro corpo non arrivando più ossigeno si arriva alla morte. Ecco perché nelle cucine si dice sempre di avere una piccola finestrina, una piccola fuoriuscita d'aria. Perché purtroppo questi gas, se una caldaia o un fornello sono guasti o anche una stufa, se non c'è nessuna via di fuga dell'aria, noi rischiamo di essere avvelenati senza che ce ne accorgiamo. E qua dice anche che, il libro dice anche che, ad esempio, nei casi dei fornelli, la fiamma, quando invece di essere, ecco, normalmente la fiamma ha dei riflessi azzurri, no? Diciamo, quindi dei riflessi azzurri. In questo caso la fiamma ha dei riflessi sul giallastro, quindi giallo-arancione. Questo vuol dire che sta producendo monossido di carbone e noi magari non ce ne accorgiamo perché la pentola è sul fuoco o perché la stufa magari ha una fiammella piccolina, nel caso di stufa a gas chiaramente stiamo parlando, e quindi noi non ce ne accorgiamo e piano piano veniamo avvelenati, ok? Quindi i due gas di cui abbiamo parlato quali sono? Un attimo che vado indietro, ecco qua. Allora, abbiamo parlato del diossido di carbonio che è la nitride carbonica, che diciamo che di per sé non sarebbe un inquinante ma che ad alte densità e quindi ad alte concentrazioni contribuisce all'effetto serra. Mentre invece un gas molto più pericoloso per noi è il monossido di carbonio che abbiamo detto che viene prodotto, è un risultato, un effetto che si ha con la combustione e che può essere molto concentrato in ambienti chiusi, soprattutto se ci sono delle caldaie o dei fuochi, ecco, anche dei fuochi da cucina che non funzionano bene. Questo si produce quando c'è poco ossigeno nell'ambiente, va bene? Quindi invece di diventare diossido di carbonio diventa monossido di carbonio. Ed è pericolosissimo perché cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che inodore, cioè non ha odore, e in colore, cioè non ha un colore. Quindi il nostro sangue viene avvelenato piano piano senza che ce ne accorgiamo, perché abbiamo detto che il monossido di carbonio si lega all'emoglobina del sangue, che non riesce più a trasportare ossigeno e quindi noi piano piano ci addormentiamo, veniamo avvelenati e rischiamo la morte, ok? Purtroppo è brutto parlarne, ma ne dobbiamo parlare. Passiamo all'ultima parte del paragrafe e del capitoletto e già abbiamo finito, ragazzi. Le polveri sottili, ok? Polveri sottili. Vediamo cosa sono le polveri sottili. L'immagine già ci fa capire qualcosa, eh? vedete qua delle persone che vanno in bicicletta e chiaramente intanto che stanno facendo? Stanno respirando ciò che c'è per strada. Ma vediamo di cosa parla il paragrafetto. Allora, polveri sottili. Le particelle solide sono composte da polveri, ceneri, fumi e fuligini, con dimensioni da piccole a microscopiche. Possono avere una composizione chimica molto variabile. Le più nocive sono alcune polveri metalliche di cromo, piommo, nickel. Per la loro dimensione tendono a raccogliersi all'interno delle vie respiratorie, con effetti irritanti e, a lungo termine, imprevedibili. Allora, leggiamo questa prima, cioè spieghiamo questa prima parte. Allora, polveri sottili. Le particelle solide sono composte da polveri, ceneri, fumi e fuligini. La fuligina, avete presente, che è quella polvere che si crea nei camini o a volte anche che si crea, che so, attorno ai fuochi. È come una polvere veramente piccola, piccola e impalpabile, fatta di fumo, che diventa quasi solido. Ok? Ecco che alla C dice che nelle polveri sottili che respiriamo ci sono anche le ceneri, i fumi e le fuligini, con dimensioni da piccole a microscopiche. Quindi alcune le vediamo, come ad esempio la fuligine. Altre non le vediamo, ad esempio i fumi magari noi non ce ne accorgiamo che le stiamo respirando. Ok? Se c'è tanto tanto fumo lo vediamo, ma se il fumo è nascosto nell'aria, nel senso che non è in una quantità tale che noi la vediamo, allora noi la respiriamo senza accorgercene. Ok? Respiriamo, scusate, questi fumi senza accorgercene. Ecco che quindi le dimensioni di queste particelle sono da piccole a microscopiche, quindi piccolissime. E possono avere una composizione chimica variabile, che vuol dire che sono tanti composti chimici di diverso tipo. Le più, anzi, no, le più nocive, sì, 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 le più nocive sono le polveri metalliche. Cioè, noi non ce ne accorgiamo, ma respiriamo anche delle polveri di metallo, come ad esempio il cromo, il piombo e il nickel. Cosa è prevalentemente che produce queste polveri metalliche? Ad esempio, i gas di scarico delle automobili, ma non solo quelle. Una delle cause sono i gas di scarico delle automobili. Allora, per la loro dimensione tendono a raccogliersi all'interno delle vie respiratorie, con effetti irritanti e a lungo termine imprevedibile. Quindi, proprio perché sono così piccole e perché, nonostante sono delle polveri inquinanti, a volte anche di metalli che sono contenuti nell'aria, noi li respiriamo e li accumuliamo all'interno dei polmoni e poi dai polmoni passano anche a tutto il circuito, al circuito sanguigno. Quindi, in realtà, noi, respirando, accumuliamo queste polveri e questi metalli all'interno di noi, che inizialmente possono avere, soprattutto per le vie respiratorie, magari ci viene la tosse, avete presente quella tosse irritante? Ecco, magari lì per lì possono essere anche irritanti per le vie respiratorie, ma a lungo termine, in realtà, noi li accumuliamo nel corpo. Andiamo a leggere cosa dice il paragrafo. In particolare, le particelle metalliche più piccole, PM10, dimensioni inferiori a 10 micron, ragazzi, micron è un'unità di misura proprio infinitesimale, quindi veramente piccolissima. Noi, chiaramente, non li vediamo ad occhio nudo e bisognero dei microscopi per vedere queste particelle, va bene? Quindi, per la loro dimensione tendono a raccogliere, scusate, eravamo qua. In particolare, le particelle metalliche più piccole, e qua parla di PM10, va bene? Quindi, diciamo, sono particelle inferiori a 10 micron, chiamate polveri sottili. Possono penetrare nelle vie respiratorie, anche più pericolose sono le polveri ultrafini, PM2,5, quindi più piccole di 2,5 micron, che possono depositarsi dentro gli alveoli polmonari. Quindi, pericolose sono le PM10, quindi le polveri metalliche inferiori a 10 micron, ma ancora più pericolose sono le polveri, le polveri ultrafini, ok? Quindi le PM2,5. Questo, ragazzi, anche se non lo sapete dire, bene, tranquilli. A noi interessa sapere che le polveri sottili sono delle polveri, anche metalliche, che sono contenute nell'aria e che noi respiriamo, va bene? Se poi ricordate che pericolose sono le particelle PM10, vedete? C'è pure il disegno, quindi magari vi aiuta a ricordarlo. Ma ancora più pericolose sono le particelle PM2,5, cioè quelle più piccole di 2,5 micron, va bene? Perché si depositano dentro gli alveoli polmonari. Ora, ultima parte della lezione. Secondo le stime dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, in Italia l'inquinamento da polveri sottili provoca ogni anno 66.000 morti premature. Per questo nelle grandi città, soprattutto durante la stagione fredda, sono fissate per legge delle soglie massime per la concentrazione di polveri sottili, oltre le quali scattano misure di blocco del traffico. Spieghiamo che vuol dire questa cosa. Allora, secondo le stime dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, quindi secondo le stime di un'Agenzia che controlla l'inquinamento, va bene? In Italia l'inquinamento da polveri sottili provoca ogni anno 66.000 morti premature. Che vuol dire? Che ogni anno 66.000 persone muoiono prima del tempo che sarebbe naturale, quindi non muoiono di vecchiaia, ma muoiono in maniera anticipata, quindi muoiono presto, perché praticamente respirano in continuazione un'aria inquinata, va bene? Per questo nelle grandi città, quindi magari non parliamo, ecco, non parliamo dei nostri paesini, parliamo però delle grandi città che possono essere Milano, Roma, Palermo, Napoli, quindi città in cui c'è tanto tanto traffico, va bene? E in cui molto spesso sono concentrate anche le industrie. Soprattutto durante la stagione fredda, quindi soprattutto durante l'inverno, sono fissate per legge delle soglie massime, cioè un tetto entro cui si deve rimanere, ok? Quindi non si può superare questo tetto, questo massimo di inquinamento, perché altrimenti si scattano delle misure di blocco del traffico, che vuol dire che se una città è troppo inquinata, magari per due o tre giorni o si può usare l'auto a targhe alterne, quindi un giorno le pari e un giorno le dispare, questo perché? Perché così si dimezzano le auto in circolazione. oppure magari in alcuni periodi si può decidere che nel centro storico non entrano più le auto per due o per tre giorni, fino a quando l'inquinamento non cala un pochettino, ok? Questo vuol dire scattano misure di blocco del traffico, cioè o si limita il traffico o si blocca completamente per alcuni giorni in modo che l'inquinamento cala un pochettino, va bene? Vedete qua che vi fa vedere anche un'immagine di rilevamento, qua ad esempio è, prende come esempio la città di Verona, PM10 sono le particelle quindi più piccole, le polveri sottili più piccole di 10 micron e vedete che c'è il primo maggio, il 2 maggio e il 3 maggio, quindi si vede ogni giorno come va l'andamento degli inquinanti e queste sono delle tabelle che soprattutto nelle grandi città vengono effettuate, va bene? Allora ragazzi la lezione è finita, mi rendo conto che è stata un po' lunga perché ho voluto leggere questa volta, oltre che spiegare, però man mano abbiamo spiegato i vari passaggi quindi noi stiamo parlando dell'inquinamento dell'aria, giusto per fare un riassunto innanzitutto abbiamo detto che l'aria che respiriamo è cambiata nei secoli e che sta avendo un cambiamento molto grosso negli ultimi decenni, grazie soprattutto ai gas di scarichi, alle industrie e anche alle nostre caldaie, ai nostri riscaldamenti. Poi abbiamo parlato dei gas inquinanti, abbiamo parlato dell'anidride carbonica, quindi del diossido di carbonio, abbiamo detto che di solito l'anidride carbonica non è inquinante, diventa inquinante quando è in alte concentrazioni, va bene? Perché contribuisce all'effetto serra che io qua non vado a rispiegare perché l'abbiamo fatto nelle lezioni precedenti, diciamo solamente contribuisce a creare quella fascia che non permette al calore di uscire dal pianeta terra, ok? Per cui il nostro pianeta si riscalda sempre di più, il global warm, vi ricordate? Ok? E andando avanti poi abbiamo parlato del monossido di carbonio, quindi questo gas pericolosissimo, perché in odore e in colore, che si lega all'emoglobina, quindi ai nostri globuli rossi che abbiamo nelle vene, ok? Che invece di trasportare ossigeno in questa maniera trasportano il monossido di carbonio e quindi cosa succede? Che il primo a subire gli effetti è il nostro cervello, per cui piano piano ci addormentiamo, dopodiché possiamo arrivare anche addirittura alla morte perché tutto il nostro corpo piano piano viene avvelenato. E poi infine abbiamo parlato delle polveri sottili, cioè degli inquinanti che sono presenti nell'aria e possono essere anche degli inquinanti di tipo metallici, quindi delle piccole particelle che rimangono in sospensione nell'aria e che noi respiriamo, ok? Abbiamo spiegato anche che quelle più piccole di 10 micron si chiamano PM10. Quelle più piccole di 2,5 micron, quindi proprio quelle ultrasottili, si chiamano appunto PM2,5, 2.5 e sono le polveri ultrafini, ok? Ancora più pericolose perché possono arrivare a rimanere e depositarsi negli alveoli polmonari, va bene? Ragazzi la lezione è abbastanza semplice, come ripeto l'ho voluta leggere e spiegare passo dopo passo, scusate, la gaff, proprio perché in qualche modo volevo che fosse chiarissimo, va bene? Qua vedete anche un simboletto. Che cos'è questo simboletto? Agenda 2030, cioè un'agenda, chiaramente ragazzi non confondete l'agenda, non l'agenda quella che sfogliamo, vuol dire una serie di obiettivi che tanti paesi si sono dati per cercare di ridurre l'inquinamento dell'aria, ma non solo dell'aria, anche l'inquinamento dei mari, l'inquinamento delle piantagioni, l'inquinamento della terra, va bene? In questo caso noi abbiamo parlato di inquinamento dell'aria, che è uno, la riduzione dell'inquinamento dell'aria è uno degli obiettivi dell'agenda 2030, va bene? Quindi di questa serie di regole che gli stati si sono dati. Buono studio e alla prossima!